Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi è domenica ecologica, la quinta e ultima della stagione. Stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ci sono delle deroghe, i dettagli su romamobilita.it. Le altre notizie per la giornata di oggi sono in programma delle potature a Via Cilicia e a Corso Italia. Le chiusure e le deviazioni bus sono su romamobilita.it. Ed oggi è la domenica delle palme, cortei religiosi in diversi quartieri cittadini, tra gli altri Tor Sapienza, Tordeschiavi, Piazza Malatesta, Via Gallia e Colli Portuenzi. I dettagli e le possibili deviazioni bus su romamobilita.it. Grazie a tutti. Grazie a tutti.